ciao a tutti bentornati oggi vi parlerò di aliexpress tempo fa ho acquistato della merce da aliexpress che sarebbe arrivata la fine di maggio ma alla fine di maggio non è arrivata quindi ho attivato la controversia la controversia dove vai a richiedere rimborso per merce non arrivata e la controversia mi è stata accordata la controversia mi è stata accordata quindi mi avrebbero dovuto rimborsare ma ieri 17 giugno è arrivato il pacchetto quindi ci tenevo a farvi vedere il materiale che mi è arrivato anzitutto e parlarvi così in positivo di aliexpress io fino adesso sono tanti anni che acquisto non ho mai perso nulla a parte una volta un pacchetto ma posso parlare solo di bene di questo sito allora vi mostro quello che mi è arrivato avrei voluto che fossero arrivati molto prima perché avevo far da fare un lavoro e ci tenevo a questo materiale ma non è stato così fa niente pure farò dopo avevo preso dei pacchetti di filo da ricamo naturalmente vi lascerò il link del negozio nell'info box vi faccio vedere quindi sono delle matassine di cotone da ricamo e guardate che splendore che belli che sono questo in camera si vede io lo vedo sul turchese invece viola lilla ma poi ancora quest'altro colore come vedete più scuro poi abbiamo ancora questo glicine questo no non è uguale sono uno diverso dall'altro di colorazione con una leggera sfumatura tra loro e sono 24 6 8 matassine con sfumature luce bellissime vediamo con la luce se si vede diverso e ogni pacchetto venivano 0 64 centesimi quindi ho preso quattro pacchetti avrei che ho speso 2 euro e 49 2 ore 49 devo dire che è pochissimo per questo materiale vi faccio vedere ancora l'altra colorazione che ho scelto che era questa io ho scelto quattro sfumature di colore ma non ricordo quante sfumature ce ne sono ora guardo sul telefonino vi dico subito ho scelto queste sfumature di colore sul marrone quindi sono guardate quante sfumature di marrone poi abbiamo questo più chiaro ancora questo cioè la sfumatura è lieve tra uno e l'altro ma sono di una bellezza guardate questo ancora più chiaro guardate che dirvi sono favolosi ora guardo un attimino al telefono quante sfumature di colore ci sono così vi dico subito allora ci sono sette sfumature di colori io ne ho prese quattro manca la sfumatura con il rosso quella con il grigio e quella con l'arancio le sfumature gialle rimettiamo a posto questa colorazione vi faccio vedere prossimo colore che questo sfumature con il verde anche questi molto molto belli ve li faccio vedere uno a uno perché comunque il video non dura tanto e quindi abbiamo tempo guardate che belli che dirvi sono favolosi bellissimi e anche di questi sono otto pezzi vi faccio vedere l'ultimo questo con sfumature dell'azzurro guardate diciamo che questo è il mio colore preferito questo azzurro più scuro questo ancora più scuro bellissimo azzurro e poi abbiamo questo guardate che belli che sono questo non è in camera io lo vedo molto chiaro ma non è così chiaro camera lo vedo quasi bianco ma non lo è diciamo che la colorazione dopo di questo wow che dirvi con 2 euro e 49 ho acquistato tutto questo ditemi voi se non conviene ora devo solo imparare a ricamare dicevo sono molto soddisfatta per come imposto aliexpress quindi di sicuro non vai a perdere niente l'importante è sapere quando è la scadenza di dell'arrivo perché comunque quando fai un acquisto c'è scritto quando potrebbe essere l'ultimo giorno di arrivo dopo scaduto il termine si può attivare la controversia e quindi di sicuro ti rimborsano per quello che hai perso anche se c'è la probabilità che comunque il prodotto ti arriva io vi saluto un 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 feedback positivo per aliexpress fatemi sapere voi cosa ne pensate la vostra esperienza ciao e alla prossima